che fu bocciata in un referendum. È chiaro che hanno provato a fare un ricatto nei confronti di Tsipras, hanno provato a piegarlo, hanno provato a uccidere nella culla la possibilità di un altro discorso sul futuro della Grecia e dell'Europa. E anche la scadenza dei tre giorni è una cosa difficilmente sostenibile. Tuttavia Tsipras ha detto che questo accordo può consentire alla Grecia di tornare a respirare. Vorrei che lo stesso trattamento venisse riservato tuttavia anche verso quei paesi che abitualmente sforano i parametri. La Germania non rispetta i parametri di Maastricht da molti anni, a partire dalla bilancia commerciale. Se sono tre giorni per fare la riforma delle pensioni a Tsipras, occorrerebbe dare tre giorni alla Germania per entrare nei parametri.